Ciao Diego, volevo chiederti proprio in relazione alla tua conclusione tu concludi anche il libro dicendo che in qualche maniera solo la filosofia ci può salvare e la filosofia, il rimedio, il farmacon, che può... Posso parlare senza? Beh non si sente bene però se vuoi dire un po' più distante è perché devo... ragazzi, scusate proprio in relazione a questo mi dice solo la filosofia ci può salvare la filosofia è quella che può appunto reagire nei confronti di questa ideologia del fatalismo postmoderno e così via Ok, ci sei? Sì, sì, ci sono Benissimo Volevo chiederti delle citazioni proprio in relazione al testo e alle tue ultimissime righe tu parli di filosofia come resistenza alla logica del mos economicus e rallentamento dei ritmi vitali ma concludi dicendo che in questo paesaggio desertificato del presente la filosofia può forse limitarsi a far valere un'istanza meramente testimoniale segnalando l'incantesimo temporale in cui siamo sospesi e di cui non sembriamo aver coscienza essa può renderci più tristi e più saggi lasciando sorgere negli abitatori del presente uno stato d'animo di nostalgia dell'avvenire e di rassegnata consapevolezza che si tratta ormai di un futuro passato volato via per sempre Apparentemente, sono le ultime righe del tuo libro questa tua eroica resistenza filosofica si limita in realtà ad una presa d'atto di una realtà che sembra appunto immodificabile e quindi la tua stessa posizione sembra rientrare in quell'ideologia postmoderna che guarda nell'abisso, diagnostica una realtà nichilistica terribile ma allo stesso tempo la vede come immutabile, in qualche maniera la lascia essere quindi apparentemente la tua posizione sembrerebbe più dogmatica che idealistica seguendo la definizione che tu hai da accorto Dico solo una cosa, ti ringrazio, meno male che non ho scritto un giallo perché hai letto la conclusione quindi si sarebbe scoperto ecco no, in realtà la persona che adesso ha parlato ha colto secondo me l'ambiguità maggiore del pensiero Dico Fusaro secondo me c'è una contraddizione di Dico Fusaro da un lato lui si richiama apertamente non soltanto a Marx ma anche a Fichte, il pensatore della prassi il pensatore per cui la filosofia non è unicamente testimonianza ma è un invito alla transformazione del mondo perciò da un lato Diego Fusaro si richiama a un firone di pensiero che interpreta il tempo in cui viviamo come tempo di trasformazione radicale e anche se usiamo questa parola rivoluzionaria dall'altro però nello stesso tempo, nello stesso modo sono troppo numerose in Diego Fusaro le formulazioni per cui la filosofia ci salva unicamente come testimonianza contemplativa e disincantata fra le due cose c'è contraddizione, quando io ho finito dicendo che ci sono tre aspetti di Diego Fusaro il filologo marziano, l'interpreti di Marx e il filosofo ancora a diventare intendevo esattamente questo, esattamente questo perché se Diego Fusaro riconfluisce nello genere letterario secondo cui non c'è più niente da fare è stato bello sognare, per usare le canzoni, non mi ricordo più, di Bobby Solo che è esattamente il genere letterario di Galimberti di Heidegger no, Heidegger è molto più profondo però oggi, non dimentichiamo mai, Diego Fusaro ha fatto molto bene a finire con l'ideologia perché a fianco della filosofia ci sono i gruppi intellettuali, accademici, europei, occidentali il cui 80-90% è pagato dallo Stato, cioè da noi per insegnare ai giovani che non ci prende da fare ora, possiamo anche fingere che non sia così ma siccome questo è il punto fondamentale a me non interessa oggi fare l'ennesima sparata contro la filosofia universitaria alla Schopenhauer e così via anche perché oggi Schopenhauer ha il potere oggi la situazione è completamente rovesciata rispetto a 200 anni fa 200 anni fa Schopenhauer se la prendeva con la filosofia al potere di Heidegger perché essa era politica quando invece Schopenhauer voleva invece consigliare e spingere a una riflessione puramente esistenziale del destino del singolo uomo se radicato dagli altri oggi Schopenhauer ha il potere oggi Schopenhauer è arrivato al potere nella forma dell'intellettuale universitario postmoderni i quali ripetono tutti alcuni in maniera neoliberale alcuni in maniera sapienziale alcuni in maniera idegariana altri in maniera feveriana e così via che non c'è più niente da fare che oramai il destino della tecnica e dell'economia sono sovrapposti sul mondo che l'esperienza storica del comunismo storico novecentesco ha dimostrato che ogni tentativo di cambiare il mondo porta le cose ancora peggio e così via ora questo gigantesco apparato ideologico perché l'ideologia si concretizza in apparati ideologici occupa dall'ottanta al novanta per cento dei gruppi intellettuali delle facoltà di filosofia in Europa occidentale probabilmente non in America Latina non nei paesi arabi però in Europa occidentale si ed è il riflesso filtrato delle geomonie dell'impero americano ovviamente con alcune mediezioni ma non troppe 5-6 non di più 5-6 non di più ora infatti questo il destino di Fusaro si giocherà su questo se Fusaro vorrà essere fino in fondo fedele alla linea emancipatrice Spinoza Fichte Hegel Marx oppure se confluirà sebbene in forma particolarmente colta e chiara e così via nella idea secondo cui la filosofia ci salva unicamente come testimonianza per cui sarebbe come dire che noi non la beviamo come diceva Papini gli apoti quelli che non bevono perché se la filosofia avesse unicamente come scopo la consolazione della filosofia e beh il signor Boezza l'ha scritto già molto bene 1500 anni fa per cui se vogliamo unicamente dire che la filosofia ci consola dall'alienazione ci consola dalla manipolazione ci consola dello scontro continuo fra Rosi Bindi e Berlusconi ci consola continuamente dall'intrusione del grande fratello di Isola di Famosi ci consola continuamente dalla manipolazione beh questo chiedo scusa è vecchio come il cucco ora la novità in Fichte Hegel e Marx è che la filosofia è un carattere di prassi Hegel era contento della prassi e del suo tempo Fichte e Marx invece no per cui secondo me la questione fondamentale è questa quando Alessandro Monchietto ha fatto questo rilievo e questo rilievo scusami interpella te Diego interpella te cioè non è che ti interpella come filosofo cioè ti interpella come persona seria ti interpella come persona competente perché se tu fossi uno dei tanti buffoni conferenzieri che girano in questo momento per l'Italia e per l'Europa non ti interpellerebbe per il costoro vivono di buffoneria vivono di schauspiller vivono di teatro ma siccome tu sei un vero filosofo sei un vero filosofo e lo dimostri con i tuoi libri con le buone di cose non puoi non prendere sul serio quello che è stato detto perché se tu finisci il libro dicendo che la filosofia ha un carattere di testimonianza in un mondo desartificato allora no tu non sei fedele a Fichte Hegel e a Marx tu li tradisci tu in realtà vai dietro a Galimberti e a tutti i buffoni che scrivono nelle pagine femminili di Repubblica i quali per l'appunto ogni settimana pagatissimi dicono che non ci viene da fare perché oramai la tecnica l'economia così via così via sono solo sul mondo sembrano disincantati enzauber e così via ora questo è il tuo problema Diego è il tuo problema da cui non potrei sottrarti a lungo perché tu non puoi dire che la filosofia ci salva in quanto testimonia questo è una cosa che esiste da molto tempo la filosofia ha sempre avuto un carattere di consolazione ha sempre avuta la filosofia a parte il fatto che al tempo dei Greci antichi essa è nata già come politica come anticrematistica non facciamola lunga su chi erano i presocratici che erano dei legislatori comunitari legislatori comunitari ora la filosofia è sostanzialmente una proposta di legislazione comunitaria se è questo non soltanto questo ma anche questo non è soltanto testimonianza e dicendo che è testimonianza tu, mio caro Diego inganni te stesso e ti precludi un futuro filosofio che tu certamente hai ma che non puoi avere continuando a ripetere che la filosofia come unico scopo l'ha testimonianza nei confronti di un mondo manipolato e desertificato bene ora ringrazio ringrazio naturalmente l'amico Alessandro e l'amico Costanzo per i rilievi critici da cui peraltro emerge devo dire una personalità di Fusaro ovvero di me stesso scissa un po' come il dottor Jacky de Misteraille no? per cui anche Max anche no no però come dire come si diceva prima di Mars io credo che con ogni un po' si fonde per una patruta se mi viene dato di parlare sì lo farò molto sicuramente se vengo messo all'agonia come usa fare nei talk show appunto no assolutamente ricordati no come dire io penso che si debba in qualche misura ricavare la funzione espressiva di un autore anche se minimo come il caso del sottoscritto però non penso che dai miei testi emerga questa visione questa visione del mondo disincantata e così via nella misura in cui c'è quantomeno una inconciliazione con il con il proprio tempo dopodichè io ho il sospetto invece che per converso ci sia oggi una moda come dire molto accentuata a fare una cosa opposta rispetto a quella che si diceva per cui da un lato c'è chi dice che non c'è più niente da fare e non è il mio caso e poi dall'altra c'è invece chi di fronte alla situazione sconfortante del presente un po' come lo Schelling di cui diceva Hegel cerca la via del colpo di pistola e dice ci vuole la prassi ci vuole la prassi però io penso che ci debba essere eghelianamente una mediazione come dire io come concilio queste due cose il fatto che do alla filosofia un valore testimoniale dall'altra poi dico che bisogna cambiare il mondo e questo non ho mai cambiare il mondo detta così sembra una frase da bar ma invece ha una radice filosofica profonda se pensiamo a come la utilizza Fichte ad esempio il fatto è che io penso che oggi questa duplicità per cui da un lato il mondo sembra davvero intrasformabile ma dall'altro non bisogna rinunciare a trasformarlo io penso che si compendi molto bene nell'affermazione che usava Antonio Gramsci quando diceva pessimismo della ragione e ottimismo della volontà perché nel momento storico presente come dire io dal punto di vista della ragione sono molto pessimista perché vedo da un lato venir meno ogni forza sociale in grado di resistere al capitalismo globalizzato nel senso che la vecchia classe operaia su cui faceva riferimento Marx si è rivelata facilmente integrabile nel sistema dei consumi le moltitudini di cui dice Toni Negri sono del tutto incapaci di fare la risoluzione al massimo possono spaccare vetrine fare cose di questo tipo e così via per cui manca un soggetto storico in grado di agire mi pare nel momento ma al tempo stesso come dire siamo di fronte a una totalizzazione da parte della forma merce che rende effettivamente come dire in partenza molto difficile l'idea della trasformabilità del mondo perché la forma merce va per così dire a saturare il globo da una parte ma al tempo stesso va a saturare anche l'immaginario umano non si riesce più a pensare nulla tramite la forma merce va a saturare ogni spazio simbolico per cui addirittura si rideclina in termini mercatistici anche si rideclinano in termini mercatistici anche cose che fino a ieri erano considerate dei beni e non delle merci l'acqua ad esempio la sanità e così via e come dire la forma merce diventa dominante e da questo io credo che si debba muovere onestamente con una sorta di pessimismo della ragione a cui però non deve mai accompagnarsi anche il pessimismo della volontà di personaggi come ricordavate voi se ne potrebbero aggiungere anche altri naturalmente la lista sarebbe lunga di chi appunto da questa situazione di pessimismo della ragione trae poi anche il pessimismo della volontà per cui appunto bisogna ripetere continuamente che il mondo è intrasformabile e non può essere trasformato io credo che invece si debba provare a tenere insieme le due istanze come dicevo prima poi come dire il libro non penso che sia così in questa direzione come lo sembrava dipingere Alessandro penso che il libro riapra proprio l'idea di una riappropriazione del futuro continuamente ritorna questo tema nell'ultimo capitolo cioè il fatto che il tema fondamentale della filosofia oggi deve essere riaprire l'idea di un futuro diverso rifar tornare in vita quella che blocch chiamava l'ontologia della speranza intesa quest'ultima come possibilità cioè il fatto che il mondo così com'è che pure sembra intrasformabile oggi in realtà è pur sempre fatto la stoffa di cui è fatta è sempre quella della possibilità della possibile trasformazione ad opera di un soggetto che pure al momento io non vedo in opera però penso che sia la diagnosi che è stata fatta del libro sia da questo punto di vista fuorviante che è